Mamma vuoi fare un altro saluto? Questo video parla del domino letterario Allora, in che cosa consiste il domino letterario? Allora, in pratica si fa un'estrazione Ovviamente i bigliettini avranno il nome di tutti i partecipanti a questo domino letterario In cosa consiste il domino letterario? In cosa consiste il domino letterario? È molto semplice È molto semplice da fare ma non da spiegare Allora, il primo libro che avrebbe seguito Questo mese ho deciso io il primo libro Quindi poi, ma come cazzo spiego questa domina letteraria? È impossibile In che cosa cost... La prima... Allora, si fa... È impossibile Parlando di Jonas Questo libro... Parlando di... Di Jonas Jonas Ah mio Dio